Ah ragazzi bentornati sul mio canale, io sono Magnus Continuiamo la nostra missione con LEGO Star Wars Il risveglio della forza Anche perchè abbiamo scoperto che forse riusciamo a trovare alcune notizie Porca voletta ragazzi, come state parlando? Avete visto in pratica il nostro carissimo amico Ray E' diventato una forza da quando ha preso la spada laser Ah che certo, praticamente lì coglioni, ok Vabbè, andiamo avanti e cerchiamo di trovare questi pezzi In maniera tale che poi possiamo salire e volare Allora, qui chi ci occorre? Ok, Bb8, vai No, C3PO, ok, incominciamo a non confonderci, vai Scusi signore, le dispiacerebbe fornirci l'accesso al deposito scorte? Ah, c'è di qui che non è così un monohaha Delle dei ruopi polveriche, uff, la delacheo Di protei di odio, chi ne ha chiamato il ciotto? Oh, santo cielo, temo che padron Numb non sia molto collaborativo Pare che gli avessero promesso del gelato di Bibla Bacca per combattere il caldo E non vuole aiutarci finché non l'avrà ricevuto Nessun problema Ma in Numb è l'eroe della ribellione che aiutò a distruggere la seconda morte nera Per me può avere anche la granella extra se la vuole Con Anna è la stessa cosa, ma non dirglielo Io gli avrei nato un cazzotto, eh Vabbè L'importante è che ci ha fatto salire No, però Dammi qualcun altro, eh, perché Che c'è qua? No, vabbè Ragazzi, che fate? Restate dentro? Allora, qua No, aspetta che forse qua ci serve Vabbè, tanto comunque non ce l'abbiamo Il personaggio non va bene Ho fatto salire Leia Speriamo che Di farcela lo stesso Allora, iniziamo a vedere che cosa dobbiamo costruire Ci abbiamo due punti qua e qua Vediamo prima qua Se forse ci conviene costruire questo pezzo qua Me sa di... Ah, ok ragazzi Eh, ci fai salire ancora? Scusami Ehm, baldo giovane Aspetta E adesso? Oh Che fai? Non ci fai più salire? Vai Ragazzi, vi do un consiglio Uscite tutti quanti fuori, eh Se no qua Forza Uscì Fuori Forza, eh Perché rientrate? Porca paletta, ragazzi Me lo ammazzo sto coso Ok, vabbè, vai Bibiotto Ehm Dovresti risolvere tu sta situazione qua, eh Vai Iniziamo Di qua Attenzione, piano 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 Ok Il problema è che Sicuramente non potrai costruire un tubo Eh, è perché gli altri stanno giù Dobbiamo fare questa cosa Per 20 minuti Perché non potete uscire tutti quanti insieme Ma siete Vabbè Vabbè Questo non ci interessava nemmeno Questa parentesi Andiamo avanti Andiamo avanti Che forse è meglio Ok Finisci di rompere sto coso Brava principessa E costruiamo quest'altro Un bel proietture Ti pariva che non ci Che servono per far felice Signor Namb Dovrebbero essere nel contenitore dorato Bibiotto Lo guidi al portello di caduta? Eh, lo so Un momento Aspetta Che dici? Eh, bravo Facci salire Ma dai Ma dai Ma come Ma come che vuole è possibile? Forza Stiamo da 20 minuti Soltanto per cercare di salire qua sopra Forza Tu sei rimasto là sopra così Eh Adesso uscite Adesso uscite Vabbè Usa per controllare La direzione dei nastri D'asportatori Ok Vai Ok Fantastico Ah, perfetto Che facciamo? Lo buttiamo tutto giù? Ok Spero di non combinare un macello Aspetta un po' Vediamo un po' No È di qua, eh Penso Vediamo un po' Allora Penso che vada bene così, no? Allora Facciamo così No, dammi Dammi Ray Allora Voglio vedere dove sta il nastro trasportatore Per che cavolo sei uscito da là, eh Andiamo un po' da quest'altra parte E vediamo Anche perché io il nastro trasportatore Non l'ho visto giù, eh Aspetta Allora Stiamo rompendo un po' di cose Qua che c'è Senti dei rumori strani Mazzà Quanto spazio ci sta qua giù Allora qua Aspetta un po' Non credo che qua È bastissima sta zona Aspetta un po' Allora Qua penso che possiamo salire Allora Che ci occorre? Qua penso che dovresti poter salire Bravo Bravo Ok Perfetto Da questa parte siamo andati Vai Allora qua che c'è Vai Che è sto cosa? Ah devo girare Oh bello Che c'è qua dentro? Ah ok Diamo modo Anche agli altri di salire Vai Ok Quindi l'abbiamo L'abbiamo riparato E abbiamo riparato questa bella Che c'è qua? Yes Qualche idiota ha impostato questo terminale Su una lingua assurda Non ti preoccupare Adesso Oh cavolo Eh Che fate? Mi prendete per il culo? Non l'ho capito Vai Impostatevi Aspetta Vai Ce la facciamo? Oh Finalmente Ragazzi Finalmente Siamo riusciti a farli salire tutti quanti Vai Vai tu E cerchiamo di risolvere questa situation Sì sì Dai Facci risolvere Allora Ok Mi pare che era questo O questo O questo Che dici? Ci siamo? Ce l'abbiamo fatta ragazzi Forse ce l'abbiamo fatta Vai Ok Ok Ma anche no Guarda Andiamo un tantinello di fretta Eh Proprio un tantinello Ok Cosa abbiamo realizzato? Che è questo? Qua ci sta ancora un'altra roba Questo dobbiamo ancora costruire qua Aspetta Oh cavolo Guarda qua che ti abbiamo realizzato Visto? Bellissimo ragazzi Scusate Per la guida Ma non vi preoccupate Ah ecco Ammazza Che 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 frenata Ok Bene così? Forse ce l'abbiamo fatta Ok Mancano solo i missili a percussione E I biscotti per walkie Ma quale biscotti Dopo gli do un cazzotto in testa Vediamo che se lo vuole il biscotto Ok Quindi Vediamo un pochettino cosa dobbiamo fare Allora qua Che c'è qua dentro? Questo sta Vabbè Non sta facendo niente Allora Da quest'altra parte Dobbiamo aprire Sto cavolo di cosa Se no Questo non ci va a fare niente Allora di qua Che c'è? Qua non c'è niente Qua sto rompendo a bambera Ok Qua c'è qualcosa Iniziamo Ci serve Ah la principessa Penso Yes Ok Aspetta un attimo Ok Oh Oh A cavola per poco Non ce l'ho fatta Vai Ok Dovrebbe andare tutto ok Attenzione Vai Dammi fin Ok Scusate ragazzi Distruggiamo un po' di cose Perfetto Aspetta Non ho capito Se qua dobbiamo costruire Vai Perfetto Inizio a costruire Vabbè Parlo un attimo con lei Che gli da qualche ordino A questi qua Guarda che c'è qua dentro Ok Le ha Qua nemmeno Il problema è che Non abbiamo ancora Aperto quel cavolo di cosa Vediamo un po' Se riusciamo qua Oh Ci fai salire Bello Vediamo un po' Se sopra Dobbiamo ancora fare Qualche altra cosa Che magari ci siamo Dimenticati di fare qualcosa Qua Qua non c'è niente Qua manco c'è niente Questo l'abbiamo Già fatto Aspetta Aspetta Dammi un attimo Vai Montano un attimo Qua sopra Che magari possiamo Allora Non ho capito qua Che cosa serve Perché in pratica L'abbiamo pilotato Fino a qua Forse devo portarlo All'altra parte Vediamo un po' Vai così Forse Che sta succedendo Ci siamo Che sta succedendo Ragazzi Oh bb8 Speriamo di non aver combinato Un casino tremendo Ok Credo che dovrebbe funzionare Adesso Piano 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 Vai da quest'altra parte Non credo che ci siano I biscotti Là dentro Ok Aspetta un po' Perfetto Ma dove cavo Stai portando Stai Andiamo un po' Ci siamo riusciti Ottimo lavoro Pb8 Ah bravissimo Quei contenitori Sono piuttosto sicuri Ci vorrà una bella potenza Di fuoco Per spaccarli Eh non ti preoccupare Che adesso ci pensa Vabbè dai Vai Forza Dovresti farcela Penso Finno No Non ce la fai Aspetta Vediamo un po' Che ci dice Vediamo se magari Con qualche information Riusciamo a capire Oggetti Lecro Possono distruggere Ma dai Veramente E non ce l'abbiamo Aspetta Che cavolo sta Aspettiamo un po' Vediamo un po' Se ce la fai Mi metto di qua Non credo Che ce la fai Gli oggetti Possono essere distrutti Usando gruppi di personaggi Ah ecco Perfetto Ho capito Vai Gruppi di personaggi Ragazzi Siete voi Andiamo Sì Di qua Che facciamo Esercitazioni Di tiro Bellissimo Vai 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 Io mi sposterei Da quella parte Perfetto Grazie Portiamo il gelato Al signor Namb E vai Sì sì Che palle Dai Te lo metto Nelle mutande Il gelato Vai Un po' Il gelato Lo vorrei proprio Fa un chiarore Guarda quanti biscotti Aspetta Vai Fino Vai Entra da questa parte Ok Ci siamo Ragazzi Forza ci siamo Perfetto Questo l'abbiamo fatto Devi se costruire Anche quest'altro Bravissimo Bravo Ok 3 su 3 Fantastico Vabbè Monta su E andiamo Guarda che bel camioncino Di gelato Di biscotti Che top Aspetta Non sei molto bravo A pilotare Ecco tu qua Ok Mancano solo I missili a percussione Porche miseria Lei a come Sei simpatica Mamma mia Mamma mia Popolo simpatia A go go Ok dai Cerchiamo di risolvere Sti cavoli Di missili E vediamo Se riusciamo a caricare Sti benedetti Missili Scusami 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 Jan Su Però quando ci vuole un po' di forza Ogni tanto Dai Allora di qua Stiamo semplicemente distruggendo Tutto l'hangare Ma non c'è niente Qua dentro Ci siamo già stati Ma è meglio controllare Ok Di qua Manco per niente Forse qua Allora Fai fare a me A chi? Ma veramente Fai tutto da solo Ma ce la fai da solo Veramente Ma sul serio ce la fai Ma non ce la fa Questo non ce la fa Ma sei cretino Ho capito Prima dici che vai da solo E poi non ce la fai Ce la fai no? Si è messa La spara laser In saccoccia E non muore Muore un dito Hai visto come corre Lei? Tutta strana Forza Ce la facciamo? Vai Forza Velo male Ce la facciamo Vai vai Spingi Spingi Ancora Ancora Vai Che fate? Vi fermate Io stare attento Se sono dei missili Là Mi toglierai anche da sotto Tipo Occio Occio Che c'è qua? Stiamo tranquilli? Vabbè I missili li abbiamo M'ho spostati Leia io non sparerei così Che c'è qua? Oh 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 Aspetta Vai Fin Mi dai una mano? Eh tipo Fin Vai Fin Dai una mano Signorina Che cavolo Stai facendo solo figuracce Ok Penso che qua Dobbiamo montare qualcosa Bravo Fin Portiamo a bordo questa roba Vai Permesso Permesso Attenzione Bravo Ok Ce la facciamo di qua Mi sa che è meglio che Dove sta l'altro pezzo? Di qua Scusami Gian solo Entero Vai E andiamo Mi sa che abbiamo preso tutto eh No Sì Tutti i caccia pronti al decollo Oh attenzione Mi fai ancora impazzire Oh Oh Portalo a casa Porca paletta ragazzi Questa missione La resistenza E' stata veramente complicata eh Per muoverci Porca di quella misera Comunque Vediamo un pochettino Vabbè Qua abbiamo raccolto poco E niente Vabbè Non fa niente Sono curioso a questo punto Di vedere Uh 96% Cavolo Siamo andati abbastanza bene qua eh Sì lo so che abbiamo raccolto Poca roba Vabbè Ma non fa niente Voglio essere sicuro Di vedere i personaggi Perché quelle che mi interessano di più Petra parentesi Certo Sicuramente sapete benissimo Che poi ce l'andiamo a raccogliere tutti Ok E' arrivato il turno Dei personaggi Vabbè Prima dei veicoli Vabbè Vabbè Uh Bella questa La sport della resistenza Questa pure è bella eh Ok Personaggi Che abbiamo Generaleia Ah non l'avevamo ancora Uh C3PO Ammiraglio statura Calma Hemaat Ghost Towers Maggiore Calonia Ah questo è quello dei gelati Gelati della resistenza E BU40 4D 4CO Uh R2 KT Gli R2 se non sbaglio Ce ne sono parecchi E comunque vabbè Non è che sia poi tanto importante Comunque ragazzi Spero come sempre questo video Mi stai giù Non vi dimenticate sempre di commentare Se mi mette di piace No ci vediamo Nel prossimo video E bye bye